mhr e padel day challenge ci siamo siamo a lilton room airport di fiumicino evento che sta andando avanti sport glamour e tanto divertimento sono con emiliano izzi di d'orelan ciao benvenuto ricordiamo uno dei nostri sponsor esatto come sempre fedeli supporter questa è la prima edizione di qualcosa di veramente differente veramente bello bravi siamo contenti bella energia grazie perché voi siete stati anche sponsor di talking suite al san regis quindi sono davvero fedeli alla linea parliamo di d'orelan e di novità si oggi è un evento unico perché la del primo torneo di padel per il settore travel hospitality per i top manager quindi anche un modo per ripartire da qua no vediamola simbolicamente così e ci fa piacere ma io voglio sapere ci sono delle novità per il settore hospitality che proponete per esempio il reactive io so che c'è questo materasso a proposito di sport è già detto tu per cui è un bel binomio c'è sport c'è alberghiero ci sono tanti amici e clienti e collaboratori e c'è d'orelan con questo bel materasso reactive che è il materasso per gli sportivi che sta entrando anche pensato per le esigenze dello sportivo è entrato anche nel 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 mondo dell'alberghiero perché comunque intercetta un'attenzione un bisogno di dormire diverso e quest'anno qui questa padel day l'abbiamo messo in campo in palio e vediamo un po che sono giudica dai dai così si riposa bene ricordiamo che qui siamo vabbè una diretta la gente passa perché siamo il bello del live della diretta ricordiamo che ci sarà la premiazione tanti premi in palio una serata condotta da alessandra casale tra questi premi c'è il reactive di d'orelan quindi ci tenevo dire ambito sì 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 no siamo contenti dai vediamo un po non possiamo vincerlo noi non sarebbe fairy come è andata la partita di padel perdonami com'è andata si può dire che era la mia prima partita l'abbiamo vinta l'abbiamo vinta abbiamo un buon un buon partner che era mi ha guidato bene abbiamo vinto abbiamo vinto bene adesso dobbiamo vedere il pomeriggio che facciamo visto sbirciato si è andato bene anche se c'era un piccolo infortunio infortunio ma quello era per per mischiare le carte il nome del padel questo ed altro il nome del padel esatto grazie a voi grazie ciao 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 ciao